Ciao, sono Eleonora Torre, Master Crystal Nails. Ho conseguito il titolo di Master nel Campus 2023 a Treviso. Fin da subito ai corsi ho sempre avuto una passione per la struttura e per la cura del dettaglio. Andando avanti nella mia formazione mi sono innamorata anche della nail art e quindi anche di tutto il mondo dei colori. Vi aspetto per trasmettervi la mia passione in tutte le aule corsi di Crystal Nails Italia.